...dello sforzo climatico... Tornano a dialogare PD e Italia dei Valori dopo un attrito volvente che alle ultime amministrative era sfociato clamorosamente in candidature distinte per i vertici di comune provincia è accaduto stamattina nei locali della federazione provinciale PDINA per i DV presenti due commissari regionali Enzo Tromba e Peppe Giordano e i vertici comunali e provinciali del partito di Antonio Di Pietro. Il partito democratico schierava il deputato Marco Minniti, i consiglieri regionali Demetrio Battaglia e Nino De Gaetano il commissario provinciale Momo De Maria e i capigruppo PDINA a comune provincia da una vita impredicato di candidarsi quale sindaco di Melito Portosalvo nel dopo iaria non poteva passare sotto traccia la presenza dell'ex numero due dimorabito alla provincia Gesualdo Costantino. Ma soprattutto han fatto capolino due pilastri il futuro accordo per una convergenza in tutte le località in cui si voterà il 6 maggio e quanto a Palmi specificamente un ticket legalitario di due indipendenti notissimi e di peso. Quale aspirante vice sindaco? Il commissario della sua ed ex capo della DDA Regina Salvo Boemi si ritroverebbe l'imprenditore coraggio Gaetano Saffioti uomo che ha avuto l'ardire di dire no ai suoi estorsori e che interpellato da Italia dei Valori avrebbe già risposto in maniera positiva. La vita è fatta di andate dei ritorni di incontri e di scontri. Noi come Italia dei Valori siamo contenti di essere qui oggi a riaprire un percorso politico nuovo con il PD di progetto e di idee per le prossime amministrative e gradualmente per step ci vedrà anche seguire un percorso comune in tutte le altre istituzioni, comune, provincia e anche per regione per quanto riguarda la deputazione calabrese del PD di Italia dei Valori. Politica e legalità, Marco Minniti per quanto riguarda la riva Piddina e tutta Italia dei Valori si sono trovati d'accordo nel chiedere un'ulteriore accelerazione a tutte le forze politiche in campo per la candidatura boemia a Palmi. Sì, sicuramente abbiamo questa accelerazione perché Palmi diventa un fatto politico molto importante al di là della figura del candidato sindaco perché ricordiamo l'altra volta noi partiamo da una situazione dove il centro-sinistra nelle passate amministrative non era andato neanche al ballottaggio. Grazie. 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 Grazie.